Countdown e siamo in il caricamento della prima mappa che è Willwild. La scelta tra i due giocatori è stata fatta su questa mappa. Terran vs Terran. E inizia il primo game di questa Best of Nine King of the Hill tra il team Impulse Esport e il team Bastard di Senza Gloria. Andiamo subito alla presentazione dei rispettivi giocatori del primo game. Abbiamo nell'angolo in basso a destra per i Bastardi Senza Gloria il vecchio, credo che si pronunci in questo modo. Un giocatore Terran di Ranking Master, vedo almeno dalle indicazioni riportate su Starcraft 2 Ranks. Un giocatore con un win rate del 50%, insomma una buona posizione in Ranking di 23esimo nella sua divisione. Quindi insomma un mid master Terran non da disegnare per nulla, visto che comunque sono molto molto temibili come giocatori. Dovrà affrontare tra l'altro il giocatore del team Impulse Esport del team europeo. Effettivamente un altro giocatore Terran che espona nell'angolo in alto a sinistra con il colore viola. Si chiama Predator, la sua nazionalità è russa, della confederazione russa per l'appunto. E come vi dicevo è stato un giocatore che faceva parte della panchina per quanto riguarda i giocatori principali. Come ieri abbiamo visto in un game tra il team Impulse e gli Suba affrontarsi in una best of seven altri giocatori. Vedremo un po' quest'oggi come si comporterà Predator per quanto riguarda un giocatore Terran High Master. Quindi il suo ranking sarà decisamente superiore rispetto all'avversario il vecchio. E un punto fermo per quanto riguarda il clan Impulse. Quindi molto probabilmente deve essere estremamente abile nelle sue giocate Terran. Vedremo come si comporterà nel TVT se magari è il suo matchup preferito. E mentre sto parlando mi sono perso un po' l'opening dei due giocatori. Ma vedo subito che il vecchio ha deciso di prendere il gas molto in anticipo. E va subito di Fast Rax. Mentre c'è un SCV di Predator che viene intercettato dal marine appena sponato del vecchio. E viene subito distrutto. Ci sono già due marine prodotti per il vecchio. Mentre Predator è andato di Warrax Fast Expand. Niente gas. Arriva in questo momento l'SCV del vecchio. Che va a prendere visione della linea mineraria. Anche un po' della build. Credo che abbia scautato l'assenza del gas. Che arrivano in questo momento doppia raffineria per Predator. Che probabilmente punterà anche lui. Ha una fast fabbrica. Anche se arriverà decisamente in ritardo rispetto a quella del suo avversario. Sta andando a wallarsi con un bunker. Mi sembra una chiusura che normalmente si fa più contro i Protoss. Mi ricordo sempre il bunker sulla rampa. Veramente molto vicino alla rampa. Proprio per evitare l'entrata dei persecutori. Ma non ci sono Protoss. Quest'oggi sta andando di 1-1-1-1. Il giocatore Bastardi senza gloria. Molto probabilmente, se non sbaglio, è stato anche annunciato nella chat della lobby. Vorrà andare di drop di Elbat. Cosa abbastanza scontata anche nei TVT. Perché comunque sono estremamente forti. Arriva soltanto in questo momento la fabbrica per Predator. O Predator, come preferite pronunciarlo voi. Anche con una donna di reattore. Quindi potrebbero esserci una produzione di mine. Appunto per counterare l'arrivo delle Medivac. Vi ricordo che le mine fanno 120 danni. Ha l'unità mirata. Se c'è nessuna Medivac solo a quella. E una Medivac ha 150 punti struttura. Quindi due colpi di mina. O magari un colpo di mina. E dei marina a supporto. Possono tranquillamente portarsi a casa una Medivac. Senza far troppare le unità. Ma ovviamente la posizione deve essere precisa. Precissima sulla linea mineraria. Sul punto di arrivo delle unità aeree. Sta andando per produrre la sua prima Medivac. E dell'Eleon non va subito di. E il Vattro. Probabilmente aspetterà la produzione dell'armeria. Per andare a produrre queste unità. E invece non ci saranno nell'immediato. Almeno così mi immagino. Perché sta andando ad expare il Vecchio. Mentre è già operativa l'exp di Predator. Vediamo. La gara economica per il momento mi sembra alla pari. Perché credo comunque i muli del Vecchio. possano compensare un vantaggio legato a un exp in più. Ma ben presto ci sarà una bella differenza. Intanto io mi stavo perdendo un primo drop da parte del Vecchio. Del giocatore del Bastardi. Senza Gloria. Con Marine e tre Alien. Che sono lì ad aspettare. Arriva posizionamento del Depot. Ottimo per il giocatore Predator. Che con una buona micro cerca di portarsi a casa i Marine. che sono curati dalla Medipack. Ma sta andando a fare un altro viaggio. Per recuperare altre tre Alien. Il giocatore dei Bastardi. Senza Gloria. E si concentra su questo Depot. Se lo porta tranquillamente a casa. Non ha abbastanza unità per difendersi. Arrivano le unità. In questo momento cerca di surroundare tutto quanto. E si porta a casa già molte kill. Il giocatore del team Impulse. Vediamo uno stilicidio di Marine. E la perdita anche delle Alien. Tra l'altro Ottimo la micro. Lo è riuscito a portare in linea le tre Alien. Che hanno fatto veramente una strage. Tra le unità avversarie. Ripiega la Medivac. Praticamente senza più unità. E abbiamo già le prime kill per il giocatore Predator. Va a piazzare il suo bunker. Anche il vecchio. Che sta seguendo ora lo switch tra Rax e Fabrica. E ha iniziato anche la produzione. Ha messo in produzione anche un tank evidentemente. Per difendersi anche lui dai drop. Magari cercando di fare dei danni ad area con questa unità siggeata. Credo che lo siggerà magari sotto l'espansione. Vedremo come andrà. Intanto sta andando a prendere una seconda espansione Predator. Come vi dicevo il giocatore di ranking I Master. Quindi probabilmente sarà nelle prime posizioni. Per quanto riguarda la sua lega in ladder appunto. Sta andando a fare un'espansione. Vediamo appunto l'income è più o meno alla pari. Vantaggio per Predator che in questo momento conduce per 36 lavoratori. 39 lavoratori scusate contro 36 del vecchio. Una scan del vecchio sta andando a vedere la build del suo avversario. Vede appunto che c'è un 2-Rax quindi probabilmente andrà di full B e utilizzerà la fabbrica soltanto per spammare add-on. Mentre è in produzione in via di ultimazione anche il centro di comando. Vedo un po' di lag in campo. Non so di chi sia. Spero che non sia mia ovviamente. Mentre sta andando soltanto di 2-Rax più spazio porto con reattore e fabbrica con modulo tecnologico. Il giocatore dei Bastardi senza gloria che ha messo già in produzione già uscita una prima viking evidentemente per counterare eventuali drop del suo avversario. Ma c'è un drop di 4 alien quindi risponde da drop su drop. Il giocatore del team Impulse e fa un piccolo stilicidio sulla linea mineraria. Andiamo a vedere le unità distrutti. 8 lavoratori salva comunque 2 alien su 4. Ne ha perse comunque 2 perché vi dicevo il tank piazzato ha fatto comunque molti danni. È riuscito il giocatore dei Bastardi senza gloria ad allontanare in tempo molti SCV ma non tutti. Molti sono stati anche distrutti. Mentre sta andando ha messo in patrol una viking. Anche il giocatore del team Impulse. Intanto dico viking ma perché leggo come scritto ovviamente. sta andando dicevo a droppare ancora. Voleva droppare probabilmente Predator ma non è riuscito a fare alcun che è scappata la Medivac lasciandosi dietro un marine all'inseguimento. E anche un alien che è stata presto ripulita dal giocatore del team Bastardi senza gloria. Piazzato anche una viking sullo stesso punto del suo avversario. Un punto dove normalmente si dove stazionano le Medivac per poi droppare. Intanto vediamo la linea di produzione dei due giocatori. Vediamo iniziano gli addonanzi siamo già a livello 2 per Predator. 2 per gli attacchi e 1 per l'armatura più lo scudo balistico. E anche l'upgrade per le unità meccanizzate. Mentre va a posizionare la sua seconda espansione in giocatore del team Impulse. E cerca di prendere visibilità con la torre Xel Naga centrale. Mentre sta arrivando un'armata della morte da parte del giocatore del Bastardi senza gloria. Il vecchio vedremo come andrà lo scontro. Per ora naturalmente deve ripiegare velocissimamente Predator. Perché non ha possibilità di fare nulla contro quel numero di marine e tank. Ma ci sono già due tank in difesa. Quindi inizierà la guerra tra marine tank e Medivac. Aspettiamo soltanto l'arrivo degli Elbat che di solito sono le unità che vengono utilizzate per spazzare via un po' di marine avversari. L'Escan da parte dei due giocatori sembra quasi un TVT stile Wings of Liberty. Con Marine Medivac Tank e Escan a GoGo. Va a spostare il suo centro di comando. Se la dà seconda espansione nella base principale. Perché ovviamente non aveva posizionato adeguatamente le unità. Ma attenzione c'è un drop con tre Medivac da parte del giocatore Bastardi. Senza gloria due torrette riescono a fare distruggere due navette mediche. Mentre i marine cercano di portarsi a casa qualche altra kill. I tank sono stati subito siggiati da parte del giocatore il vecchio. Ma gli SCV pullati cercano di fare dei danni. Quanti più danni possibili desigia i tank il vecchio. Per cercare di portare tutto via e salvare il salvabile. Visto comunque che ha perso già molte unità. Fino ora non è riuscito a fare molti danni con questa Viking. Che era posizionata in patrol. Qua dietro il giocatore del team Impulse. Sta ripegando velocemente. Droppando anche i marine per evitare di essere inseguito appunto dalla Viking. Mentre recupera tutte le sue unità al centro della base della Netual. Il giocatore del team Impulse. Sta andando ad expare anche il vecchio che vi ricordo è leggermente inietro per quanto riguarda l'economia. Ha ripreso in questo momento maggiore slancio perché comunque poteva mancare soltanto da due. Da una sola base perché praticamente la seconda espansione è stata spostata. E sulla base principale tutti gli SCV sono stati pullati per fare dei danni. Quindi insomma ha subito un po' un danno sulla macro il giocatore del team Impulse. Vedremo come si comporterà più avanti. Mentre sta andando a costruire altre due racks il giocatore del team Bastardi. Quindi quattro racks per lui al momento. Arrivano anche le torrette difensive. Guardate di solito questo punto è molto gettonato per i drop. Infatti ci sono quattro torrette soltanto in quest'area per evitare appunto l'arrivo di drop devastanti. Arriva una seconda fabbrica per il vecchio che per il momento sta cercando di recuperare lo svantaggio che aveva. Visto che aveva comunque una base meno posizionata. Controlla ancora con una scan la presenza della seconda espansione. Va a controllare anche con un'altra scan. Non ho visto dove l'ha posizionata. Ma c'è un Marine di Vedetta qui per vedere appunto l'arrivo dell'esercito avversario. scan da parte di Predator che muove tutto il suo esercito. Piazzano i tank entrambi i giocatori. A questo punto è un balletto tra Marine e tank e scan ovviamente per dare più visibilità possibile alle unità in campo. Cerchiamo di dare anche noi visibilità per quanto è possibile. I Marine vanno in avanti per cercare di subire dei colpi dai tank e non far colpire i tank avversari. Ottima la giocata da parte del giocatore del team Impulse. Ma a questo punto inizia il tank versus tank. Le scan e le medivac rimangono soltanto le Viking ad aspettare l'arrivo in campo per determinare chi avrà la supremazia aerea. Che determinerà poi chi vincerà perché con la supremazia aerea si può dare più visibilità ai tank. Quindi colpi e con i tank avversari. Intanto una steam pack di alcuni Marine si porta a casa una medivac che era stata posizionata per dare appunto visibilità. Come vi dicevo il numero di Marine credo che sia in vantaggio per il vecchio in questo momento. Infatti siamo 66 per il vecchio contro 53 di Predator o Predator. Arriva però gli upgrade siamo già più 3 in ricerca per Predator. Mentre il vecchio credo che sia ancora al più 2. Infatti al più 2 per l'armatura e gli attacchi a distanza. A questo punto desige tank e si sposta prima verso Torex Senlaga poi per cercare di intercettare la seconda espansione. Che stava per essere posizionata ma viene subito allontanata da Predator. Un manipolo di Marine in difesa di Predator. Cercano di temporeggiare contro l'esercito del vecchio che a questo punto va a prendere posizione sulla seconda espansione. Comunque è in vantaggio per il Marine. Come vi dicevo ma arriva un altro manipolo di Marine e un numero di tank decisamente superiore per Predator. A questo punto può cercare di l'ingaggio. Piazza tutti i tank sarà una strage se non riuscirà a fare in tempo. Infatti perde tutti i Marine e tutti i tank. Il giocatore è il team Bastardi Senza Gloria che in questo momento sta subendo decisamente lo Psy 129 per il vecchio. E 161 per Predator che sta andando a prendere posizione con la sua seconda espansione. Mentre il vecchio è andato a posizionare in questo momento. Ha costruito anche delle torrette difensive. Arrivano gli upgrade 3-3 anche per il vecchio. Mentre c'è un po' di lag non credo da parte mia. Siamo già all'upgrade 3 per Predator. Almeno per l'attacco 2 ancora sull'armatura. Mentre in produzione soltanto Marine e tank da parte di entrambi i giocatori. Non ho visto nient'altro in campo per il momento. Marine su Marine. Ancora qualche punta di lag. Vedremo, speriamo di non essere noi. E sinceramente mi dispiacerebbe dovrei abbandonare in questo momento. Perché la partita sta per credo volgere alla fine. O almeno Predator cercherà di farla finire il prima possibile. Fatal error dice che c'è della lag. Giustamente nessuno ha utilizzato l'emmina in campo. Cosa molto strana. Intanto arriva l'ingaggio. Mentre sto parlando di più e del meno piazza tutti i tank. I marini in avanti di vecchio cercano di fare più danni possibili. Ma i tank di Predator sono tantissimi. E spazzano via tutto. Arriva il GG da parte del vecchio. 1-0 per Team Input.